Domani sera a Bari, a Parco Perotti, cerimonia per i nove anni dall'incidente aereo della TR-72 della Compagnia Tunisina Tunenter, costato la vita a 16 passeggeri, 13 dei quali baresi. Altre 23 persone rimasero ferite. Abbiamo chiesto al Ministro Orlando di farci avere un resoconto sullo stato di esecuzione della condanna penale. Ora chiediamo pure al Presidente Renzi che la giustizia sia rispettata e che venga applicata la sentenza emessa dai giudici della Corte di Appello di Palermo. Nessun condannato sta scontando la pena, lo scrive in una nota la Presidente dell'Associazione Disastro Aereo Capogallo 6 agosto 2005, Rosanna Albergo Baldacci. La cerimonia di domani sarà preceduta dalla celebrazione di una messa nella chiesa di San Sabino. Nel marzo 2013 la Corte di Cassazione ha sancito definitivamente le responsabilità, condannando appena detentive tra sei anni e otto mesi e cinque anni e otto mesi sette imputati tunisini. I due piloti, il direttore generale, il direttore tecnico, due responsabili della manutenzione e il meccanico della Tune Inter, giudicati responsabili del disastro. Il processo si è concluso. I responsabili sono stati individuati e condannati in via definitiva, ma a tutt'oggi nessuno di loro sta scontando la pena. Finora i colpevoli l'hanno fatta franca e continuano la loro vita come se nulla fosse successo, protesta Albergo Baldacci. Ci chiediamo a cosa servano tra i gradi di giudizio spese processuali, anni di indagini, perizie, rogatorie internazionali, se poi tutto si traduce in un nulla di fatto sul piano dell'esecuzione penale. Dobbiamo invidiare l'India, conclude, o meglio il governo indiano, per come trattiene i due marò italiani non ancora condannati. Noi non ci siamo rassegnati.